Soprattutto adesso che sappiamo che è la migliore del mondo. Io l'ho sempre saputa. L'ho sempre saputa. E quindi questo dottore la scoprì per caso? Non la scoprì, evidenziò i benefici perché lui stesso visse a Pioppi nel Cilento in Italia per parecchi anni. E qui dal 1975 al 2003 è vissuto. Quindi è stato lui a diffondere l'idea della dieta mediterranea. Infatti si è accorse che gli abitanti di questo piccolo villaggio di pescatori conduceva una vita molto semplice, molto equilibrata. Si nutriva di alimenti semplici, non aveva malattie cardiovascolari, almeno pochissime. E c'erano molti longevi. Però oggi, secondo quello che leggo io dai pochi giornali che ricevo dall'Italia o che posso leggere, gli italiani di oggi hanno lo stesso problema che noi abbiamo qui in America. Che voi avete da molti anni. Da molti anni. Quindi voi siete all'inizio, direi. Stato aumentando di peso. Perché? Perché sta succedendo? Io, i giovani soprattutto, perché escono, mangiano spesso fuori, nei fast food, quindi spesso non tornano a casa a cena o a pranzo. E quindi questo non fa certo bene. E lei, essendo educatrice o educatrice, ha scritto proprio questo libro utilizzandolo ai giovani. Sì, sì, sì. Vorrei che i giovani imparassero a mangiare più sano e ad usare appunto la dieta mediterranea. È molto difficile. Mettiamo che un giovane, una giovane donna, una giovane donna, un giovane... Vuole cucinare o imparare a cucinare questa dieta perché ha preoccupazioni di saluto, perché vuole essere sano. È difficile o no? Ci vogliono molti prodotti o lei rimane con questi tre o quattro prodotti? Ci sono poi prodotti puri, cereali, i vegetali, la frutta. No, 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 non è difficile reperire questi prodotti, si trovano dappertutto. Sì, anche qui. Anche qui si trovano. È importante combinarli sapientemente, soprattutto usare l'olio di oliva. Questo non mi stancherò mai di dirlo. E poi ho visto che anche la signora Obama è molto attenta a questo problema. Sì, infatti, per le scuole pubbliche... Le scuole pubbliche sta facendo moltissimo, sta insegnando ai bambini, insomma, a mangiare... No, non insegnando ai bambini, sta forzando le scuole ad adottare un cibo più sano. Un cibo più sano. Ma chissà se useranno l'olio, per esempio, l'olio d'olivo. Parlando dell'olio d'olivo, l'olivo è un prodotto italiano? Sì, sì. Un nome viene dalla Grecia? Come? È un prodotto che si trova in tutti i paesi mediterranei. Tutti i paesi mediterranei. In Grecia, in Marocco, in Italia, in Spagna. Francia? No, non molto in Francia. In Francia più il vino. Che io sappia, i greci non usavano l'olio d'olivo per mangiare, ma per gli atleti per... Anche per ungere il corpo di atleti. I corpi, per farlo più lascivo, come dire... Però lo usavano per mangiare pure? Sì, 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 sì. E adesso ci sono dei frantoi dove si fa l'olio d'oliva, ancora come lo facevano i romani. Solo la prima sprimitura degli olivi e niente altro. Questo sarebbe extravergine. Ho capito, ho capito. Quindi dall'Italia viene l'olio, certo qui si vende molto l'olio d'olivo. L'olio d'oliva italiano. Una volta che si impari a usare l'olio d'oliva si usa sempre. Sì, sì, è buonissimo. E ammettiamo che una giovane donna, nubile, vuole invitare un ragazzo, un amico a casa sua. Però la vita di oggi non è così come era una volta, si poteva cucinare per dieci ore. Deve fare tutto, un pranzo, in un'ora, due ore. Può leggere questo libro e ricavarne un ottimo... Un pranzo buono, discreto, in pochissimo tempo. In pochissimo tempo. Io penso di sì, ci sono alcune ricette che sono veloci. Come ad esempio... Io piglio come esempio la classica nostra pasta asciutta, perché... Cominciamo con l'antipasto, perché oggi l'antipasto è diventato così ricco, quando si va in un ristorante americano ti danno appetizer, ma ti danno tanta quantità e varietà, che è molto più interessante l'antipasto che il pranzo. Il pranzo principale. Il pranzo principale già si sa quello che è, quindi... Beh, di veloce che potrei suggerire? Una bruschetta. Ecco, quello semplice. Semplice. Basta arrostire un po' di pane. Molto saporita. Molto saporita, strofinarlo con un po' di aglio e mettere sopra quando di più sano c'è. Quella è la ricetta mediterranea, c'è l'olio... C'è l'olio, c'è il pomodoro, ci sono gli olivi, si può ampliare questa ricetta con dei vegetali sott'olio, pezzetti di mozzarella, non ci vuole altro. E poi affiancarli, per esempio, con dei grissini, con dei rotolini di prosciutto cotti a fianco, con dei grissini. E già sarebbe più importante, più... Un po', una bottiglia di vino? Certamente, una bottiglia di vino italiano, buono. Ah, italiano buono. E sul vino italiano buono ce n'è molto. Ce n'è molto, sì, sì. Dei fiori? Dei fiori, senz'altro, per rendere la situazione più romantica. Ecco, delle candele. La candela accesa. Una o due? Meglio due. Meglio due. E per il primo piatto, the main course? Per il main course, io... Una ricetta che sta qui? Sì, sì, voglio suggerire una che sta qui. O la semplice nostra pasta asciutta, molto semplice, cioè con il pomodorino fresco, i pomodorini ciliegini piccoli. Ma sono piccoli, oppure, per esempio, si vendono o hanno un nome abbastanza di prestigio, il pomidoro di San Marzano. Di San Marzano. E quelli non sono piccoli. Quelli non sono piccoli, no, anzi, sono allungati con la punta un po' sotto. Invece questa è una varietà, i ciliegini piccoli. Molto piccoli? Sono buoni, sono buoni, sono maggiore. Sì, sì, sì. E un'altra particolarità, un'altra varietà di pomodori piccoli, sono upiennel del Vesuvio. Upiennel? Upiennel, cioè che si mettono a peso. E sono saporitissimi perché le terre, noi sappiamo, le terre del Vesuvio sono molto, molto fertili. Ho capito. Allora, la pasta asciutta con salsa fresca, aglio, olio e basilico. E ci sono pure dei piatti di pesce, per esempio. Sì, sì, sì. Mi piacerebbe, vorrei, e credo che lei mi ha regalato il libro, la ringrazio, ma cercherò di fare alcune. Sì, sì. Il pesce, non è tanto facile fare il pesce. Il pesce arrostito, ad esempio io di solito lo faccio marinare in una marinatura di un po' d'olio, origano, prezzemolo e due gocce di limone. Lo faccio marinare e poi le metto al forno, molto semplicemente, sia il pesce spada, sia il pesce arrostito. Ma sono pesci piccoli, individuali, che si possono… Sì, individuali, oppure fette, oppure filetti. Ho capito. Dipende. E all'impiuto al forno, come lo fa il pesce? Alla pizzaiola, con il pomodoro, olivo. Cioè, lo frigge, come fa? No, 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 preparo una salsetta molto veloce, molto fresca, poi adagio i pezzetti. E salsetta molto presto? Cosa c'è? L'olio? L'olio, il pomodoro fresco o il pelato, l'aglio, il prezzemolo e l'origano. Ma due minuti? Due minuti. Si adagia il filetto o i pezzetti di pesce, si copre e si mette a fuoco basso. Olive nere. Altre cinque minuti? Cinque minuti è cotta. Oh, si aggiunge anche olive nere. Olive nere, molto origano e prezzemolo. E quello come si chiama? Alla pizzaiola. Alla pizzaiola, ho capito. Bene, bene. Quindi, l'altro, abbiamo fatto il primo piatto. No, sì. Abbiamo fatto anche il secondo, il pesce alla pizzaiola, il pesce arrostito. No, no, perché no? Il pesce può essere arrostito pure. Arrostito pure, la brace. Ah, sì? Sì, oppure al forno, grigliato. Ma non è delicato? Si può... No. I filetti, quelli teneri, per esempio, di sogliala, no, sono troppo delicati per farle meglio al forno, oppure alla pizzaiola, oppure in bianco per i bambini. E che tipo di carne si usa nella dieta mediterranea? Nella dieta mediterranea si usa molto la carne bianca, per esempio il coniglio. Il coniglio? Il pollo, sì, sì. Oh, deve stare attento. Qui in America il coniglio... È sacro? È sacro, non si mangia, sono... Il coniglio è la carne più... Si usano come il cane di gatto, viene parte della famiglia. Il coniglio è molto leggero, pochissimi grassi. Sì, peccato, forse si scoprirà un giorno. Si usa l'agnello, il capretto, soprattutto a Pasqua e Natale, fallo al forno. Si usano molto le salsicce, perché abbiamo parecchi maiali pure. Ma il maiale è pesante o è ricco di grassi? Una volta era molto grasso, ma adesso con l'alimentazione più moderna non ci sono razze molto grasse. E i prodotti preparati, oppure come le salsicce, che sono sotto sale? No, 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 sono fresche, sono carne di maiale macinata, messa nel budello. La carne preparata, come dire, la carne che non è fresca, come il prosciutto, la salsiccia... La salsiccia secca le intende, la salsiccia secca da tagliare, il salame. Quello lì dovrebbe fare parte della dieta mediterranea? Anche, sì, sì, soprattutto il prosciutto crudo. In il salame si usa un po' di meno. In Italia non si usa molto il prosciutto cotto? Sì, sì, si usa soprattutto per cucinare. Per cucinare? Sì, per cucina, sì. Ho capito. Allora, questi sono prodotti che si possono usare ovunque. Però io direi, più italiana, qui è conosciuto come dieta italiana, oppure il cibo italiano che è stato propagandato, diffuso dai ristoratori italiani, quindi stanno avendo molto successo. Ma questo invece è per una famiglia più che altro, una famiglia dove riduce i piatti, oppure una persona giovane che vuole imparare. Che vuole imparare, perché sono piatti sani, ripeto, semplici. Ho dedicato un po' di spacci in più alla pasta fatta a mano. Ecco, questo è importante, perché mi interessa molto personalmente. Fare la pasta è molto fascinante perché da niente si crea qualcosa. È molto bello. E poi la pasta fresca è molto importante. È molto importante. Da noi si fa molto spesso, quasi tutte le domeniche a casa c'è la pasta fresca. Fresca? Sì, sì, che si fa in casa. Ma si trova regolarmente? Sì, sì, si trova anche fresca fatta di giornata in molti negozi. Sì, 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 si può ordinare. E allora in questo libro si può leggere come fare la pasta? Come fare la pasta di casa. Per gli spaghetti? Ho fatto le tagliatelle, gnocchi, ravioli, lasagne. Si può leggendo? Sì, sì, leggendo si capisce molto bene perché ho spiegato. Una volta che si fa la pasta uno la può fare in qualsiasi forma. In qualsiasi modo. Sì, sì, sì. E ci vogliono le uova? Sì, la pasta di casa fatta a mano ci vogliono le uova. C'è la farina di grano duro, le uova, un po' d'acqua e un pizzico di sale. Questo è tutto. E quello ancora qualifica come mediterraneo perché c'è l'uovo? Soprattutto come mediterraneo perché c'è il nostro grano duro. Il grano duro per la pasta. Mentre la farina bianca doppio zero... C'è molto grano duro? Se produce grano, sì. Ma non grano duro o semolina? Semolina o grano duro? Duro. Ho capito. Noi siamo arrivati alla fine della nostra conversazione. Mi dispiace. Passa in fretta. Mi fa piacere. Magari se scrivi un altro libro nel prossimo futuro. Sì, sì. Ho già cominciato. Ah sì? Sempre sulla mia dieta mediterranea, però ho fatto la dieta mediterranea anche come street food e finger food. Ok, we have reached the end of our program.